Siamo Nin Dove? Eh? Cosa andiamo? A casa Cosa andiamo? Eh, direi Ho fame io Tu non hai fame No Eh, io sì Grotta sonora, questo è interessante Non l'ho fatta a mano Ah, vedi? Proviamo andare a vedere? Giorgio Andiamo a vedere C'è un C'è un workshop Vi hai detto ma volevo l'attispa Ti ricordi quella mia Tu non c'hai degli amici qua a Caccara? Amici di Paolo Ti ricordi andavamo lì a fare manifestazioni dentro quella specie di salone? Sì, sì Sì, poi poi siamo venuti talmente tante volte E tu non ti ricordi? No Ma era tutto gente che veniva qua Andiamo a vedere ragazzi, è ingresso libero Andiamo a vedere che è Che veniva appositamente Lì c'è la C'era quella ragazza Signora tedesca, ti ricordi? Sì Alta, bionda Sui cinquant'anni all'epoca Ma ora c'è una sessantina Abbiamo fatto una conferenza pure qua Ti ricordi che c'era il partito Non mi ricordo Che cazzo No, qua dentro, qua Anche lì, ma qua Qua Due volte C'è uno, due o tre volte qua Anche Si entrava da qua mi pare, no? Anche lì Anche lì Andiamo a vedere dentro che c'è? Dove? Qua, andiamo Ah no, è di là allora Di là, di là, di là È di là, è di là Di qua È finito? È finito Oh Lì c'è la sala delle conferenze Eh, andiamo a vedere Una volta che l'abbiamo fatta Sono due pelli Guardi Simpatici Ecco qua Ecco qua Vediamo Una Sì Eh? Mi avete parlato? No, no Ah, non è che? Stavamo dicendo, sono belli Ah, no Ah, grazie No, siccome sono dito e tu senti il video Allora le volte Allora le volte magari non sto guardando l'interlocutore Non capisco Eh, eh, che vedo Sì Stavo guardando Perché l'ho usato una volta tanto tempo fa Sì 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 No, no Eh, sì 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 Eh, sì Poi E se ci ha un po' Sì 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 Penso che non mi serve Perché non si fa Sì no, è soltanto video video Grazie. E' la cena delle beffe questa? Eh, questo quadro mi ricorda, cioè, evocativo sicuramente, no? Cena delle beffe, naturalmente. Non a caso tu hai citato la cena delle beffe perché si tratta di un quadro evocativo, chiaramente, di stampo medievale. Un po' onirico così, no? Tra il medievale e il mitico medievalista, con liti, scontri di varie famiglie nobili, dei vari piccoli centri del Medioevo e con tutte le conseguenze correlate. A incominciare dal mito di Romeo e Giulietta. Quindi è evocativo, è un bel quadro, è un quadro evocativo. Anche quello, anche quello. Anche quello è molto bello, c'è anche un'illuminazione adeguata. Diciamo che i tratti sono molto grezzi, ma forse volutamente grezzi. Certo, certo. Si stanno benissimo. Si stanno benissimo. Oddio, il simbolismo qui non si capisce cosa possa essere, ma in ogni caso qui c'è, mi sembra una donna che piange in un modo o nell'altro. E' sicuramente un modo semisotterraneo con un lago. Un asfondo che oserei dire leonardesco. Il grande fratello, che guarda. Esatto. E' un neo-risorgimentalista. Rinascimentalista. Rinascimentalista. E' lo sfondo che ti dà l'idea, più che altro. No, ma anche i colori, guarda questo qua. E' quello tra l'altro è piuttosto bello, con quegli scuri così. Io mi immagino appunto Romeo e Giulietta o Capulelli. Questo sì, personaggi, anche personaggi, con sfondi cinematografici, anche questo. Anche questo che ci ricorda certi quadri. L'ultima cena. Questa è l'ultima cena? Sì. Questo ci ricorda... In cui al centro c'è la sacerdotessa. E non... Un'ultima cena con l'epicentro, la mandare... Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, undici. E gli altri due? Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, undici. Sono undici. Sono undici. Beh, insomma, il simbolismo è quello. Questo ci ricorda alcuni quadri... Questo ferma lo scannatore, vedi? Questo ci ricorda alcuni... Il lavaggio dei piedi. Alcuni quadri... L'episodio... Dei cosi. L'episodio di... L'avaggio dei piedi. L'avaggio dei piedi, no? Al contrario, perché c'è un uomo che lava i piedi a una donna... E viceversa. Il lavaggio dei piedi sarebbe la maddalena... Infatti. Ah, è Gesù Cristo. E questo è il battesimo. L'abbiamo individuato. Chi è? È il battesimo questo, lo vedi? Diversano l'acqua... Ah, certo. È il battesimo. Ah, certamente, sì, sì. È un battesimo notturno. Con acqua più o meno sacra. Vediamo di qua. Abbiamo individuato il tema, secondo me. Passiamo di qua. Ce l'abbiamo tutti gli altri qui. Questa è una Atena. Ma sembra più che altro un simbolismo naturistico, stile arcimbordo. Lo vedi? In grembo l'altra donna. Stile arcimbordo. Con l'uovo sacro. Sì, sì. Lo vedi? Sì, sì. E ti voglio adoroschi. Sì. Sì. Lo sguonare. Buon succedimento. Questo è un infeo, lo vedi? È un infeo, lo vedi? Però sono tutti assessuati. Hai visto? Completamente assessuati. Più o meno, perché c'è una femminilità, qui abbiamo una femmina che esce da una femmina. Vabbè. Ce l'abbiamo. Grazie. 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 Grazie.